Qual è la riforma che voi invece volete portare? Noi crediamo che la sfida di questo tempo sia restituire il potere nelle mani degli italiani, sia la sfida del presidenzialismo, cioè dell'elezione diretta del Presidente della Repubblica, dei deputati e dei senatori scelti ed eletti dagli italiani, che agli italiani rispondono e non alle segreterie di partito, quindi delle preferenze, di un Senato che se non è eletto da nessuno non può neanche essere fatto di senatori immuni, di persone che semplicemente capiscano che sono rappresentanti del popolo italiano. Invece Renzi vuole un Parlamento nel quale i rappresentanti del popolo non sono più tali, ma sono semplicemente persone che eseguono dei diktat di partito.